Mario Primastella è lieta di presentarvi i propri artisti che fanno parte del gruppo rps e parte europea tv Rosario Donato Rosario Donato Rosario Donato Maria più bella e te, più grande e te, non è nessuno Maria, Maria, te vogliono vedere Gianvito Rosario Donato Savio Donato Rosario Donato Diego Restivo Rosario Donato Rosario Donato Gino Maschio Rosario Donato Rosario Donato 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 Rosario Donato Rosario Donato Rosario Donato Rosario Donato Tony Fassano! 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 non cammina tu ora con te respiro sempre un'aria nuova e senza scuardo pure annanza gente che voglio passare e non ne fermaste in mano quando si vanno a incontrare e non ne fermaste in base quando si vanno a seccare e non dici il resto d'ora state zitta calabuccia perché con te mi sento viva ancora con te respiro sempre un'aria nuova e senza scuardo pure annanza gente che voglio passare e tu ci si infondano la new entry di Radio Prima Stella Germania la bellissima cantavoce della grande Emanuella Polese Emanuella Polese Emanuella Polese mi sentivo mi sentivo un cuore mi sentire mi sentire mi sentire Emanuella Polese Emanuella Polese potete anche lasciare un messaggio numero whatsapp più 49 1523 79 77 138 e Radio Prima Stella sceglie sempre il top perché Radio Prima Stella perché Radio Prima Stella è sempre con voi non 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 ma